... Nazionali caduti, civili e militari, tutti perseguitati perché italiani. Ricordiamo anche Maria Pasquinelli, ultimo sussulto di italianità, quando tutto era ormai perso. In alto le fiaccole per ricordare e mantenere viva la loro memoria e testimonianza di italianità. Sono molte le battaglie che ancora ci aspettano. Non ultimo, recentemente, il monumento al Tigre è stato dichiarato monumento di interesse, interesse di non si sa ben cosa. E quella sarà subito una prima battaglia che noi e le associazioni che avranno voglia di venire con noi affronteremo immediatamente.